carissimi amici fratelli sorelle buona giornata pace del signore 22 gennaio un nuovo giorno sono le sette del mattino e leggiamo nel libro di malachia antico testamento e già un capitolo 4 due versi il verso 1 e il verso 2 dove è scritto poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace allora tutti i superbi tutti i malfattori saranno come stoppia il giorno che viene l'incendierà dice il signore degli eserciti e non lascerà loro nel radice nel ramo ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia la guarigione sarà nelle sue ali voi uscirete salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla quando nella parola di dio si parla del giorno del signore che viene si parla inevitabilmente dei giorni in cui dio manifesterà il suo giudizio e qui il profeta malachia questo sta annunziando quel giudizio che dio alla fine eserciterà su chiunque avrà operato iniquamente impiamente è un giorno nel quale dirà l'apostolo paolo nello scrivere ai corinti ogni cosa verrà messa in luce anche le cose occulte quelle che sono state fatte nelle tenebre e ogni cosa che sarà stata compiuta in contrasto con la giustizia e con la verità sarà inevitabilmente giudicata da parte del signore quel giorno sarà terribile perché il fuoco dell'ira di dio non permetterà a nessuno di poter sfuggire alla giusta condanna e il peccato sarà finalmente ed eternamente distrutto è un qualcosa che naturalmente ci vuole risvegliare dal sopore in cui delle volte cadiamo e dal torpore che caratterizza la nostra vita e che soprattutto ci spinge a sottovalutare la gravità del peccato agli occhi dell'idio che si dichiara tre volte santo all'occhio dell'idio che odia il peccato e che ama la giustizia ama la verità e che quindi non può avere nessuna comunione con tutto ciò che è contrario alla sua santità e sarà un giorno terribile un giorno che verrà ripeto è qualcosa che dice chiaramente e sarà un giorno terribile per i malfattori ma un giorno meraviglioso per coloro che invece avranno camminato nel timore del signore perché sarà un giorno che spunterà come il sole il sole della giustizia quindi qualcosa che illumina e quando la bibbia parla della luce la bibbia parla di cristo perché egli è la luce egli è la lucente stella del mattino egli è colui che porta la vita nelle persone e allora in questo scopriamo la differenza che un giorno ci sarà tra coloro che avranno camminato ubidendo alla voce di dio ed essendosi ancora prima consacrati a lui e quanti invece avranno camminato seguendo l'andazzo di questo mondo lasciandoci soggiogare dalle concupiscenze e dagli istinti peccaminosi della propria vita è un giorno che verrà un giorno che sarà di gioia per alcuni ma di dolore per altri un giorno che sarà meraviglioso per quanti avranno amato dio ma che sarà terribile per quanti invece lo avranno rigettato per quanti avranno dice lo scrittore gli ebrei trascurato una così grande salvezza sì perché accanto a coloro che di dio di si disinteressano e che lo negano e lo rifiutano e lo rigettano in modo testardo ci sono anche coloro i quali di dio sembrano essere interessati e sono in qualche modo attratto dalla sua verità dalla sua giustizia e dalla sua santità ma poi anziché consacrarsi a lui e decidere di camminare lungo le vie che egli ha tracciato scelgono la strada della freddezza o della tiepidezza quella del compromesso e la grave condizione della chiesa di laudicea così come descritta nel libro dell'apocalisse perché non sei né freddo né fervente ma sei tiepido dice il signore all'angelo di quella chiesa io ti vomiterò dalla mia bocca e allora è importante amici che mi state ascoltando fratelli e sorelle che state condividendo con me questo momento considerare quello che noi siamo perché attenzione quel giorno sarà o una cosa o l'altra non ci sono delle vie di mezzo nell'eternità il mondo può aver inventato dei luoghi intermedi ma quelli non sono scritturali o siamo del signore o saremo per l'eternità condannati qual è la tua condizione davanti a di ora in questo momento se egli dovesse tornare se egli dovesse chiamarti a sé quale sarebbe il tuo destino eterno rifletti perché è in gioco qualcosa di molto importante molto più del tuo lavoro molto più del tuo successo molto più del tuo guadagno è in gioco la vita eterna io spero che tu in questo momento possa dire grazie a dio sto camminando nella via della verità sto camminando nel timore del signore mi sto impegnando a fare la sua volontà a servirlo ad amarlo e a metterlo al primo posto nella mia vita ma se questo non è la tua condizione se ascolti queste parole perché stamattina dio vuole salvare l'anima tua dalla freddezza dalla tiepidezza proprio dalla durezza che stai manifestando verso il suo parlare da quel recalcitrare contro il pungolo che stava portando saulo da tarso verso la condanna eterna ma venne i giorni in cui egli incontrò il signore e quello che era un persecutore della chiesa divenne un predicatore dell'evangelo e io spero che per te che finora hai sempre rigettato la parola di dio oggi possa essere quel giorno il giorno in cui accogli cristo nel tuo cuore e io spero che per te che sei caduto o caduta in una condizione di compromesso possa venire il giorno della decisione di servire e di appartenere interamente al signore sì per coloro che temono il signore quel giorno sarà un giorno in cui apparirà spunterà il solo della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali voi uscirete salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla e liberazione quel giorno sì perché in quel giorno in cui il signore tornerà i morti in cristo risusciteranno i viventi saranno trasformati in un batter d'occhio e tutti incontreremo il signore nell'aria ci siederemo alla tavola delle nostre dell'agnello e poi saremo nella gerusalemme celeste per l'eternità o che giorno glorioso per quelli che hanno timore del nome del signore possa tu insieme a me essere di quelli e camminiamo in modo tale da poter onorare il nome dell'eterno decidiamo di seguire di servire cristo mettendo da parte ogni apparenza di pietà ma facendo sì che la grazia possa abitare lo spirito di dio possa traboccare nei nostri cuori in modo che il mondo possa vedere e possa riconoscere che noi siamo per grazia figli di dio che possa il dio continuare a parlare al tuo e al mio cuore in questo giorno e possa l'anima nostra disporsi ad essere trasformata dalla sua gloriosa parola pace del signore dio ci benedichi insieme insieme